I due circoli messinesi di Legambiente organizzano a Messina una manifestazione inquadrata nella campagna nazionale Puliamo il mondo che si è già tenuta in tutta Italia nell'ultima settimana di settembre. Nella città dello stretto si tratta nella mattinata di domani dalle 9.30 alle 12.30 nell'area archeologica di Palazzo Zanca, straordinario patrimonio poco conosciuto dalla gran parte dei nostri concittadini. Gli ambientalisti hanno tenuto a evidenziare che si tratta proprio di un'operazione volta a promuovere quella che rappresenta una straordinaria testimonianza dell'antica trasformazione della nostra città, unendola alla tradizionale valenza educativa e dimostrativa della campagna Puliamo il mondo. L'intervento di scerbatura negli scavi sarà realizzato dai soci di Legambiente del gruppo di protezione civile che hanno frequentato i corsi sulla tutela dei beni culturali. Contessualmente tutti i partecipanti potranno effettuare la visita degli scavi e dell'annesso antiquarium guidati dall'esperto di archeologia Antonio Malatino. Presenziere hanno l'assessore all'ambiente e ai nuovi stili di vita Daniele Ialacqua e la direttrice del centro sui beni archeologici della soprintendenza Gabriella Tigano. A collaborare l'assessore alla cultura Sergio Todesco e la dirigente dell'istituto comprensivo Pascoli Crispi Gianfranco Rosso e Messina Ambiente.